ciao a tutti questions e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con Ash ovviamente e siccome c'era il weekend di star coins doppio ho approfittato per questa offerta sì ho comprato mille star coins al posto di 500 e oggi andiamo a comprare un cavallino insieme e voi probabilmente dalla posizione capirete già probabilmente saprete già dove mi trovo sì ragazzi scusate se non ho fatto il video durante l'aggiornamento sono usciti i nuovi Caldir e Defira sono questi bellissimi cavalli oh mio dio li voglio tutti con i loro piccoli pet sinceramente questi gatti non mi piacciono molto se devo essere onesta e poi sono tornati il Birker e la Nami allora ero strano deciso fra il Birker e uno di questi no ragazzi però non uno di questi che andranno via con l'aggiornamento del 29 allora andiamoli a vedere la fila è molto bello cioè alla fine mi piace non è brutto come cavallo è veramente bello però il suo manto normale secondo me è un pochino banale perché è molto simile a quello magico però devo ammettere che all'inizio io volevo comprare questo perché il calde mi sembrava un po' troppo acceso con questi colori viola intenso no però il manto oh mio dio ce l'ho detto no via li devo comprare tutti e due e no purtroppo mi hanno permesso di comprarmi solo uno e ragazzi oggi io vado a comprare il calder passiamo un po' il volume è stupendo sei e manto normale tipo mi suona anche come dirlo perché è tipo stupendo allora età eterno ce l'ho scritto oramai e giumitta bella 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 banale come il nome oppure potrei chiamarla diamond perché aspetta violet c'è diamond sì violet diamond perché questi qui mi servono diamanti a me oh mio dio violet diamond è stupenda e niente andiamo subito a comprare perché oh mio dio è stupenda violet diamond ok vuoi davvero comprare questo cavallo ma secondo voi ok eccola quanto sei bella la mano che resta alla raga per forza cioè ok bene venite a prendermi ragazzi ho compiato un sacco di stalle base ultimamente forse troppe ed ecco la mia nuova stalla base appena sarà possibile per quindi la mia nuova stessa fin a chiamare di tagliare nel flinomale e in un paio eh vabbè oddio oh my god oh entriamo vediamo un pochettino allora dov'è eccola la mettiamo al posto di gold che comunque no aspettate lì ci avevo messo l'una perché ovviamente cambiamo un sacco di cavalli da montare ecco due bellissimi cavalli uno accanto all'altro ok tu vai nella stalla sì oddio io guardo gold ciao gold sei nel nuovo cavallino quanto sei stupenda no vabbè ok allora facciamo un attimo l'outfit addio è bellissima aspetta oh mio dio che cosa stupenda ok allora creiamo un veloce outfit come se fosse possibile beh questo gli sta abbastanza bene stranamente e dove sono le fasce dovrei averci anche le fasce no perché quella testiera del cavolo fa schifo eccole le fasce poi devo mettere oddio però la sella il morso quelli a mod cioè quelli classici se li ha a shadow quindi prendo un minutino ehi quindi le mettiamo la briglia che bella e la stella già la adoro ma andiamo a vestiti ecco qui avrò tanta difficoltà ma quando si dice tanta raga perché non ho tante cose di questo viola appunto lo potete vedere da voi questo è un viola ma tanto tanto diverso questa qua no no oddio raga aiuto questa qua forse ci sta no sì forse non lo so cioè perché questo ocet va bene dovrei cambiare solo la maglia oddio questa non ci sta malissimo in verità però eh dai ci sta abbastanza bene anche se cioè il set è tutto un altro colore però aspettate guardo se ce l'ho più scuro questo si abbinerebbe meglio alla maglia però meglio la maglia no 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 però mi piaccio così belle diamond eccola qua che bella che è e ora appena usciamo la cambiamo di manto eh ah ma si può fare anche da qua adesso no ok non ci può ok usciamo lasci la stella ora la cambio di manto velocemente non guardate guardate ora mio io sono oh mio dio sono innamorata di questo cavallo raga wow è bellissimo vediamo se riesco a trovare un bel top da da metterci oh madonna ma col sette lì non ci può abbinare niente proprio no no evidentemente no cioè non ci può abbinare nulla non ci sta questa perché è brutta perché è brutta però questa no per niente cioè non non ci si può abbinare nulla con quella da fare è tipo stupenda è tipo stupenda raga 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 se lo potete prendere c'è l'ultima possibilità perché andranno via il 29 quindi fra circa credo 4 giorni comunque perché oggi è il 25 sì quindi 4 giorni oh mio dio è tipo stupendo ui ragazzi mi sta quasi dimenticando di farvi vedere yeah c'è anche mostra speciale del paso fino è stupenda sta cosa ma è strano che questo outfit stia bene anche al manto normale tipo ui guardate che bella che sono yeah e niente ragazzi spero che questo video vi sia piassuto era tipo da un'eternità che non postavo però vabbè dettagli lo sapete e nulla io vi saluto bye